Rossini TV accende oggi le sue telecamere al cimitero di Novilara, un cimitero della frazione collinare pesarese che negli ultimi anni è stato davvero in baglia degli eventi atmosferici, soprattutto per quello che riguarda il muro esterno, il muro perimetrale che questa settimana è definitivamente crollato in seguito all'evento alluvionale che ha colpito il territorio. C'era stato un precedente cedimento anche col terremoto di novembre, questa settimana il comune di Pesaro ha deciso di intervenire per la riparazione del muro di cinta esterno, come vedete c'è un cantiere in corso che sta riparando ad una situazione che dall'esterno si stava riflettendo all'interno perché le bare di questo lato interessato erano a cielo aperto, davvero visibili dall'esterno. Ora si sta intervenendo per la sistemazione del muro, un caso che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Malandrino ha più volte sollevato con una serie di interrogazioni comunali, è servito il crollo per accendere l'attenzione su questa problematica. Io nell'arco di due anni ho fatto tre interrogazioni in merito, chiedendo che perlomeno venisse messa a mano alla parte esterna dove c'erano praticamente i loculi aperti e le bare a vista e soggette anche oltre agli agenti atmosferici, anche animali che andavano a nidificare e a muoversi dentro. Una situazione secondo me indegna per una città come Pesaro che tra le altre cose è in procinto di diventare capitale italiano della cultura. La cultura è anche quella del ricordo e qui purtroppo l'amministrazione è stata molto carente perché dopo tante segnalazioni si sono decisi ad intervenire soltanto quando è avvenuto il crollo totale del muro. Probabilmente intervenendo prima si sarebbe speso anche di meno. Adesso sono contento perché perlomeno la situazione indegna di una città civile come dicevo, come quella di avere le bare esposte all'aria, viene se non altro sanata. E spero veramente, poi dalle immagini si vede che tutta la cinta esterna del cimitero è ridotta in condizioni pietose ed indegne. Spero che si metta a mano anche lì e si riesca ad avere un luogo di culto degno di questo nome.